Riceveranno una sospensione della durata compresa tra i 7 e i 14 giorni. I due studenti diciassettenni frequentanti l'Istituto Romanazzi di Bari che venerdì scorso hanno spaventato un docente utilizzando contro di lui un'arma giocattolo portata in aula. La decisione arriva dal consiglio di classe e riunitosi in seduta straordinaria per analizzare quanto accaduto ed adottare le conseguenti misure punitive, esaminata anche l'ipotesi di percorsi rieducativi. Non ci sarà dunque alcuna espulsione per i due giovani, provvedimento che avrebbe richiesto invece il vaglio del consiglio d'Istituto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, venerdì scorso il professor Pasquale Pellicani, al momento di entrare in una classe del quarto anno, sarebbe stato colpito al petto da un pallino sparato dalla pistola di uno studente. Mi sono spaventato, ho avuto molta paura, quando ti puntano una pistola non capisci subito se sia un giocattolo oppure no, mi è mancata l'aria, ho provato panico, ha raccontato il docente nei giorni scorsi, che pur volendo andare sino in fondo all'iter sanzionatorio avviato dalla scuola, non ha voluto denunciare il ragazzo né il compagno che aveva portato l'arma in classe. Ieri la solidarietà alla scuola e al docente anche da parte del ministro dell'istruzione Valditara, che ha contattato telefonicamente la dirigente dell'Istituto Romanazzi. Per il rappresentante del governo, l'episodio avvenuto a Bari conferma quanto sia urgente affermare il principio che un docente va rispettato in ogni caso e che qualunque offesa o violenza sarà sanzionata in maniera efficace.